Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo episodio di Spiritually with me, Cristiano Cervigni, episodio parte 2 dedicato a Britney Spears, perché tutto quello che vi ho raccontato ieri praticamente ha delle ripercussioni, ha degli aggiornamenti che per logistiche di tempo non potevo aggiungervi ieri, perché le ho scoperte nel mentre che avevo pubblicato il video ci sono delle novità assurde. Fatto sta, vi conviene mettervi comodi e andare a prendere il vostro drink o bevanda preferita, come sempre, come sempre vi chiedo di lasciare un like a questo video per sostenermi e soprattutto di iscrivervi al mio canale, perché il 60% delle persone che si guarda tutti i miei Spill the Tea with me, Cristiano Cervigni, lo fanno sì a me, mi fanno compagnia e mi commentano, ma non sono iscritte a questo canale, quindi ma che cosa state aspettando? What are you waiting for? What are you waiting for? È gratis, non ci vuole nulla e per me è una grande soddisfazione anche perché io vi ricordo, e poi si inizia a parlare veramente di questi scoop, che l'obiettivo di quest'anno, del 2024, è riuscire finalmente dopo 10 anni a raggiungere 500.000 iscritti. Ci siamo quasi, mi raccomando, aiutatemi in questa impresa. Detto ciò, sorso iniziale... Ah, e direi che possiamo posare innanzitutto la tazza e, per chi non si fosse ancora aggiornato, vi lascio la parte 1 molto lunga e dettagliata qua sotto nell'infobox in cui vi ho ripercorso gli ultimi mesi, le ultime settimane di Britney Spears tra varie notizie, fake news e varie cose. Ma, se invece ve lo siete guardati e quindi siete pronti per assaporarvi le novità, vi sarete resi conto che durante l'ultima parte del video di ieri c'è stata una parte che ho registrato un po' dopo. Perché, nel mentre che stavo editando il video, era uscita la notizia che Britney Spears, dentro allo Chateau Marmont di Los Angeles, era stata in qualche modo accusata di rompere gli zebedei agli addetti ai lavori e agli altri ospiti dell'hotel, tant'è che hanno chiamato prima la polizia e poi i paramedici. Da lì è successo il finimondo. Però, ragazzi, ragazze, ragazze, non siamo andati a fondo a questa vicenda, perché comunque, all'epoca, c'erano ancora poche notizie, la notizia era fresca, però volevo aggiornarvi. E quindi, oggi, che ne so di più, voglio parlarne insieme a voi. Allora, cosa c'è di vero? Di vero c'è che Britney Spears, insieme al suo nuovo compagno, di cui abbiamo parlato ieri, passavano la giornata e quindi la notte allo Chateau Marmont di Los Angeles. E lì io mi ero domandato, ma perché sono andato in questo hotel, se comunque Britney Spears ha una mega villa a Los Angeles? Fatto sta che, come ben sappiamo, lo Chateau Marmont è uno degli hotel molto frequentato dai VIP, perché, diciamo che, la sua fama è quella di garantire super privacy ai visitatori, soprattutto agli attori, ai cantanti, alle celebrities. E quindi, di volta in volta, i personaggi famosi vanno per qualche giorno in questo hotel per fare, magari, quello che gli pare o per non avere occhi indiscreti. Come ben sappiamo, però, forse non per tutti vale la stessa regola, perché Britney Spears era in questo hotel e Britney Spears, comunque, è nell'occhio del ciclone, soprattutto in America, perché sono uscite, comunque, queste notizie. Le notizie che erano uscite erano quelle che lei avrebbe litigato col suo compagno, tant'è che, a un certo punto, testimoni dichiarano di averla vista e sentita, fuori dalla sua stanza, urlare, in preda, diciamo così, a un attacco schizofrenico. Tant'è che si sono preoccupati e quindi hanno chiamato la polizia prima e poi i paramedici. Cosa sappiamo, poi, di vero? Di vero sappiamo che la polizia di Los Angeles dovrebbe essere arrivata in questo hotel verso le 22.30, hanno fatto un giro un po' per vedere la situazione, si sono resi conto che non c'era niente di anomalo, niente che non andasse, e quindi sono andati via. Di vero, poi, cosa sappiamo? Che i paramedici, alle 23 e qualcosa, hanno bussato alla porta della camera di Britney Spears. Sappiamo che è vero perché la stessa Britney Spears ha fatto subito un post su Instagram, che abbiamo letto ieri, in cui, spazientita, dice che loro illegalmente hanno bussato e si sono presentati alla sua porta e volevano, in qualche modo, portarla via. Altra cosa che era uscita, e quindi vi ho raccontato, e quindi che sappiamo, è che lei si era fatta male ad un ginocchio. Questa, in realtà, è una fake news, in quanto lei, sul suo Instagram, ha fatto vedere, appunto, con un post, la sua gamba, dimostrando a tutti che non si era fatta male al ginocchio, ma anzi aveva la caviglia gonfia. E dice lei che questa caviglia si è gonfiata perché ha preso una storta, facendo una piruetta, insomma, è cascata male, è atterrata male, e quindi, per questo motivo, stava un po' male. Ok, noi eravamo arrivati a questo punto. Eravamo arrivati anche al fatto che Britney Spears aveva, in qualche modo, accusato la madre di essere stata lei ad aver chiamato i paramedici. E quindi ci eravamo tutti chiesti, ma com'è possibile che la mamma sapesse Britney Spears dove era? E soprattutto che stava succedendo qualcosa, e soprattutto che lei si era fatta male. Oh, non lo so ne ancora, però andiamo per gradi e iniziamo un po' a sciogliere questi nodi di questa situazione, di questa faccenda, che è diventata sempre più ingarbugliata. Ok, insieme alla notizia sono uscite anche le fotografie che vi ho fatto vedere anche ieri, che ritraggono Britney Spears in mutande, scarza, con un cuscino che la copre, fuori appunto dalla hall dell'hotel. E anche lì io mi ero domandato, ma scusate, è successo qualcosa. Com'è possibile che lei si sia fatta vedere, sia uscita dalla sua camera in questo modo? E vi devo anche ammettere ennesimamente che lì ho avuto qualche dubbio sulla, diciamo, situazione un po' mentale, psicologica di Britney. Mi pento e mi dolgo dei miei peccati, ragazzi, ragazze, ragazzo e Britney Spears, perché sono stato un idiota. Sappiamo la verità. Allora, secondo le ultime notizie che sono uscite e secondo quello che ha scritto Britney Spears, il casino, il tumulto di Britney Spears con il fidanzato dentro la stanza di hotel in cui erano ospiti sarebbe dato dal fatto che lei è stata quella sera che si è fatta male alla caviglia e quindi avrebbe iniziato ad urlare di dolore proprio per via di questa storta e non per un litigio con il fidanzato. Ok, qui ci siamo. Può essere credibile anche perché lei c'era da martedì a giovedì, mi sembra, e la polizia era stata chiamata e poi i parametri sono stati chiamati mercoledì sera. Lei poi ha fatto il post giovedì dicendo che la caviglia se l'era fatta male la sera prima e quindi con le tempistiche ci siamo. Andiamo un attimo a riprendere il post che aveva pubblicato Britney che poi l'ha cambiato ma l'ha ripostato super giuguale togliendoci soltanto una frase e di questo ne abbiamo parlato ieri. Lei dice in questo post, tra le altre cose, di sua madre so che mia madre è coinvolta non le parlo da sei mesi e lei ha chiamato subito dopo l'accaduto prima che la notizia fosse diffusa. Vorrei avere i nonni, non la sopporto e qui ci siamo. Poi continuo al post ma ne parleremo dopo ma mi voglio soffermare su questo fatto. Sembra ufficiale, raga, e non perché l'ha detto Britney Spears ma perché ne hanno riportato questa notizia anche i media americani che la cosa che è stata la madre a chiamare i paramedici per Britney Spears sia vera. Anche perché l'uccellino che ha parlato sarebbe un'amica di Lynn Spears, la madre che ai media americani avrebbe detto questo lei ha chiamato per un 51-50 ieri sera. Britney Spears ha visto la barella e l'ambulanza ed è scappato a piedi nudi perché aveva paura che stessero per portarla via contro la sua volontà. Poi ha chiamato Rosengard che ha fermato tutto. Analizziamo adesso tutto perché qui con queste dichiarazioni adesso sappiamo la verità sperando che sia la verità. Allora iniziamo dall'inizio. Che cos'è un 51-50? Il 51-50 è tipo codice rosso TSO in America. Nel senso quando si richiede un 51-50 si richiede un TSO e quindi delle persone vanno a prendere quest'altra persona che ha bisogno del TSO contro la sua volontà e la portano in una struttura. È quello. E questo 51-50 sarebbe lo stesso codice lo chiamo codice perché non so come altro chiamarlo che è già stato usato dalla famiglia di Britney Spears in passato. Vi ricordate quando abbiamo fatto tutto il riassuntone della sua storia che nel 2008 mi sembra lei si era rinchiusa in bagno con uno dei suoi figli perché non voleva ridarli all'ex marito perché gli avevano tolto la custodia e lei aveva paura di non rivederli mai più e quindi aveva avuto questo attimo di panico rinchiudendosi in bagno che sono arrivate le forze speciali è arrivata l'ambulanza hanno tirato giù la porta l'hanno presa di forza e l'hanno portata dentro un ospedale psichiatrico? Ecco, quella sera era stato chiamato un 51-50. Ma continuiamo. Con queste dichiarazioni sappiamo anche diamo una spiegazione anche alle fotografie che sono uscite fuori che vedono e ritraggono Britney Spears praticamente in mutande fuori dalla hall. perché, vi rileggo, Britney Spears ha visto la barella e l'ambulanza che sono arrivate perché vi ricordo che c'era i paramedici ed è scappata a piedi nudi perché aveva paura che la stessero portando via contro la sua volontà. Quindi, con queste dichiarazioni io ci posso credere io posso dare la spiegazione del perché era in quelle condizioni. Magari lei era in camera stava per andare a letto col suo fidanzato per dormire per fare quello che vuoi quindi nessuno dorme vestito ok? Puoi dormire come ti pare io per esempio dormo mutande praticamente ho visto che abbiamo in comune io e Britney la stessa cosa. Hanno bussato lei ha visto magari dalla finestra l'ambulanza ha visto arrivare i paramedici con la cosa e ha aperto la porta e è scappata a gambe elevate senza star lì a pensare oddio mi devo vestire perché se no arriva qualcuno che mi fotografa. anche perché vi ricordo che lo Chateau Mormont è famoso per la privacy e quindi tutto ti puoi aspettare ma non dei paparazzi. Quindi ci può stare secondo me ma continuiamo perché finisce questa dichiarazione con poi ha chiamato Rosengard che ha affermato tutto. Chi diavolo è Rosengard? Rosengard non sarebbe altro che Matthew Rosengard il suo avvocato quello che l'ha aiutata quello che l'ha liberata dalla conservatorship e quello che è tuttora il suo avvocato. Se non mi sbaglio se non ricordo male è proprio l'avvocato che le è stato dato tramite Madonna che glielo ha consigliato lei ok? Però è l'avvocato insomma che l'ha liberata dalle grinfie del padre e di questo avvocato tornando al post che aveva pubblicato Britney Spears sul suo Instagram abbiamo anche una dichiarazione d'amore possiamo dire d'ammirazione da parte della cantante e quindi ci fa mi fa in questo modo pensare che la dichiarazione dell'amica della mamma ai media americani sia realtà perché prendiamo l'ultima parte del post del video di Britney lei scrive PS quest'uomo è meraviglioso lui è come un padre per me e mi ha aiutato a superare la scorsa notte ti adoro e ti ammiro Mr. Matthew queste parole queste frasi sono dedicate all'avvocato di Britney Spears quindi tutta la storia che lei ha visto i paramedici è scappata senza stare a pensare a vestirsi è scappata proprio per prendere tempo secondo me prendere il telefono chiamare il suo avvocato e dire oh qui sta succedendo qualcosa mi è arrivata la polizia è arrivata l'ambulanza mi sa che qui c'è qualcosa che non va che devo fa lui probabilmente ha preso la palla al balzo o l'ha raggiunta o ha chiamato chi di dovere e a quanto pare grazie al suo avvocato non se n'è fatto nulla di tutta questa situazione quindi raga la situazione è questa Britney Spears secondo me è rientrata in un vortice per colpa della famiglia che vuole in qualche modo farla ripassare male ai media e agli occhi di tutta l'America e di tutto il mondo vuole far sì che lei venga vista come una incapace di intendere e di volere come una che ormai è diventata una pazza e che quindi ha bisogno di cure speciali magari con un'altra conservatorship ma non c'è più adesso il padre di Britney che come ben sappiamo adesso si è messo un po' da parte anche perché è una malattia le è stata tolta una amputata una gamba e quindi o prima o poi povero pace all'anima sua ma insomma è lì relegato in un angolo la nuova cattiva che vuole prendere il sopravvento potrebbe essere molto probabilmente la mamma di Britney Spears perché è stata lei a quanto pare ad organizzare tutto questo ambaradam e si dice che sia stata lei ad organizzare tutto questo ambaradam anche nel 2008 anche perché la situazione su per giù è simile è successa la stessa cosa di qualche anno fa rimane però un dubbio come diavolo fa la mamma che vi ricordo che abita in Louisiana e quindi non a Los Angeles come faceva a sapere che Britney Spears era lì soggiornava in quell'hotel e soprattutto che s'era fatta male però aveva detto la stessa Britney magari c'è questo rapporto di amore e odio ma comunque Britney vuol cercare di perdonarla come ha cercato di fare mesi fa e quindi ogni tanto la sente e quindi sentendosi male perché boh non sapeva cosa gli era capitata alla caviglia l'ha chiamata dicendogli mamma guarda son caduta c'ho una caviglia grossa quanto un elefante e lei ne ha approfittato per architettare tutta sta roba oppure c'è questo nuovo fidanzato di Britney Spears che è in combutta segreta con la sua famiglia e vuole in qualche modo anche lui manovrarla non lo sappiamo riniziano le teorie del complotto ormai è un loop che non ha fine una cosa però è certa in queste ore la mamma di Britney Spears è volata è atterrata a Los Angeles e fermata dai giornalisti dai paparazzi ha affermato che è lì proprio per stare accanto alla sua bambina proprio per stare accanto a Britney Spears in questo momento delicato dall'altra parte abbiamo Britney Spears che su Instagram ha scritto che la odia che non la vede da sei mesi quindi questo incontro che sicuramente in queste ore ci sarà stato sarà finito come un incontro di box oppure c'è qualcosa che noi non vogliamo vedere non capiamo e Britney Spears sta rientrando dentro questo vortice che non ha appunto proprio mai fine io vi davo di la verità raga come vi ho detto ieri io non so cosa pensare so solo che è riniziata tutta questa mania di stare dietro a lei è riniziata tutta questa mania dei paparazzi che hanno riniziato appunto a perseguitarla TMZ dall'altra parte non c'è settimana in cui non fa un articolo contro di lei dispregiativo per farla passare male la famiglia boh uno peggio dell'altro io non lo so fatto sta raga che la situazione è sempre peggio io non so lei come possa migliorare no questa cosa o se mai ne uscirà fino a qua è una cosa brutta la Dima fino a quando la sua famiglia resta in vita mi sa che è così sarà così e proveranno cercheranno in qualsiasi modo di sfruttarla di usare le sue ricchezze di fare in modo che lei passi come pazza psicopatica per avere il controllo di quello che è Britney Spears perché appunto probabilmente sono un bolletta probabilmente hanno sempre pensato di vivere grazie ai lavori di Britney Spears ma adesso che gli ha chiuso Rubinetti per via che si è liberata probabilmente vogliono un po' organizzare altre cose perché se no appunto rifiniscono sottoponti non lo so c'è anche chi dice e chi pensa che in realtà Britney Spears era sotto conservatorship per un motivo e i motivi sono visibili sul suo Instagram perché è un po' così un po' pazzerella io continuo a dire ho qualche dubbio ogni tanto come vi ho detto anche ieri mi viene in mente boh ma magari davvero non è riuscita no? a sopravvivere a tutti questi anni di psicofarmaci ma dall'altra dico ragazzi ma questa è stata rinchiusa a 14 anni ma è normale si voglia divertire è normale che non vuole più lavorare per uno showbiz che l'ha spremuta come un limone e a cui a nessuno è fregato niente della sua salute mentale e fisica è normale che si vuole fare dei viaggi anche una due tre volte al mese perché per 14 anni non poteva fare nulla non poteva andare in vacanza non poteva prendere il telefono non poteva guidare la macchina non poteva fare una seppia è anche normale che comunque non c'è tutta di cervello perché 14 anni di psicofarmaci magari smessi di prendere anche di botto un qualcosa ti lasciano come strascico però io spero comunque che finisca tutto per lei per il suo bene spero comunque che lei stia bene soprattutto e che viva la vita che voglia non mi interessa di vederla di fa CD di fa album di fa tour fai quello che vuoi basta che stai felice detto questo per oggi gli aggiornamenti su Britney Beach sono finiti qua fatemi sapere però voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate siete più dalla parte aiutiamo Britney da liberarsi da tutto il male che la circonda o magari state iniziando a pensare boh forse davvero ha bisogno d'aiuto i commenti sono sempre aperti per tutto il resto grazie mille per essere sempre in mia compagnia mettete mi piace a questo video non vi dimenticate ed iscrivetevi ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao